Da lunedì in funzione la seconda isola ecologica interrata, realizzata nel centro storico di Prato dopo quella inaugurata due anni fa in via Santa Caterina, si trova in piazza Mercatale, sul lato verso via Santa Margherita ed è frutto della concertazione tra SM e Assessorato Comunale all'Ambiente. Una serie di cassonetti per i rifiuti che ci sono ma non si vedono perché sistemati sotto il piano stradale e nei quali possono essere conferiti i rifiuti utilizzando le torrette esterne. Un servizio l'isola ecologica interrata che vuole essere di supporto alla raccolta dei rifiuti porta a porta e che deve servire non come sistema sostitutivo del porta a porta, ma come sistema di cui servirsi solo quando non è possibile rispettare le modalità di esposizione delle varie tipologie di rifiuto davanti alla porta di casa, secondo la programmazione stabilita da SM. Ogni torretta esterna accoglie una diversa tipologia di rifiuto, si possono conferire indifferenziato, organico, vetro, plastica e lattine, niente carta e cartone, per quelli si dovrà attenersi alle regole del porta a porta. Il motivo è presto detto, si tratta di rifiuti che non si deteriorano e che dunque non producono cattivi odori. La piazzola che risponde ai canoni del decoro urbano e per la cui realizzazione non sono stati sottratti i posti auto, sarà svuotata attraverso un sistema di sollevamento che porterà i contenitori al piano stradale. Attivo un sistema di videosorveglianza che controllerà a giorno e notte i conferimenti dei rifiuti da parte dei cittadini, in modo da evitare i utilizzi impropri dell'isola ecologica. Come utilizzare il servizio in modo corretto è scritto su tutte le torrette nelle quali infilare i rifiuti. Le indicazioni sono riportate anche in inglese, arabo e cinese.